Nel silenzio delle parole non dette si nasconde un potere immenso, un universo di sentimenti, pensieri e intenzioni che spesso influenzano la nostra vita più di quanto possano fare le parole espresse. Il non detto porta con sé un peso invisibile, capace di logorarci dall'interno e di incidere profondamente sui nostri rapporti. Quante volte abbiamo scelto di tacere, di nascondere ciò che veramente sentivamo? E quante volte abbiamo percepito quel silenzio carico da parte di qualcuno vicino a noi? Questi momenti di reticenza, questi spazi vuoti tra le parole, possono diventare abistici essi che allontanano, che creano incomprensioni e malintesi. Immagina una conversazione tra amici dove uno di loro sembra distante, risponde con monosillabi, il suo sorriso non arriva agli occhi. È il linguaggio del corpo, il tono della voce, a urlare ciò che la bocca tace. O pensa a quella sensazione di freddo che senti quando, dopo un litigio, in casa regna un silenzio denso, pesante, carico di cose non dette, di scuse non formulate, di perdono non offerto. Comprendere il linguaggio non parlato, imparare a leggere i segnali non verbali che ciascuno di noi emana, è fondamentale per costruire relazioni sane, per evitare che il non detto diventi un muro insormontabile tra noi e le persone che amiamo. Vuoi imparare a decifrare questi messaggi silenziosi? A comprendere davvero chi ti sta di fronte? Il 16 marzo partecipa al nostro Open Day sulla comunicazione non verbale. Sarà un'occasione unica per scoprire come il linguaggio del corpo, le espressioni, i gesti, possano raccontare storie che le parole tacciono.